Per me è un grandissimo onore poter rappresentare il territorio dove sono nata e cresciuta e quindi sono davvero molto felice che questa sera venga, diciamo, reso pubblico e vorrei davvero ringraziare per questa opportunità che mi è stata data. Vedere il Giro Donne su queste strade, sulle tue strade, quanto ti emoziona? Credo sia davvero un'iniziativa bellissima. Cune è sempre stata una città importante per il ciclismo. Il fatto che arrivi anche il Giro Donne quest'anno è davvero una cosa molto, molto importante, secondo me, per tutto il movimento.